Amici ciao a tutti da Amadeus, beh giustamente tutti noi ci stiamo informando su tutto quello che riguarda il coronavirus e insieme ci sono delle regole fondamentali che dobbiamo osservare come per esempio lavarsi spesso le mani, è importantissimo, non tocchiamoci mai gli occhi, il naso e la bocca con le mani, se dobbiamo stianutire e non abbiamo un fazzoletto monouso facciamolo sulla piega del gomito, disinfettiamo le superfici con prodotti a base di cloro o alcol e altre semplici regole che trovate sul sito del ministero, aiutiamoci l'un con l'altro e insieme ce la faremo.